mi chiamo flavio ho 23 anni e da quando sono ventenne vivo così probabilmente non concorderete con me per tanto tempo ho pensato di essere io il problema tanto cos'altro mi aspetta fuori se non fastidio e dolore vedi che bella giornata che c'è fuori perché non usciamo uscire fuori si sono mesi che non usciamo piccolo stronzo ma che cazzo ti prende ma ti sembra questo il modo di trattarmi prima tua madre che se ne va e adesso tu che mi ignori e che cazzo ma chi ha detto che è così necessario